Una delle caratteristiche principali con le quali noi parlamentari eletti con rifondazione comunista e membri del gruppo unitario della sinistra, il GUE, abbiamo cercato di lavorare in questi cinque anni è stato quello di legare sempre l'impegno nelle istituzioni alle lotte sociali della società civile e dei movimenti. E uno dei temi su cui abbiamo sperimentato questa modalità di lavoro è proprio la lotta contro l'amianto con alcuni obiettivi molto precisi. Prima di tutto quello di estromettere l'amianto da tutte le produzioni europee e allora è una vergogna che la maggioranza del Parlamento abbia votato nel maggio di quest'anno una risoluzione che autorizza la permanenza dell'amianto in alcuni cicli produttivi fino al 2015. Grave è stata la responsabilità di tutti i gruppi compreso quello socialista che hanno dato questa indicazione. L'altro grande impegno è perché in Europa si arrivi alla formazione di un fondo europeo per le vittime dell'amianto, un fondo che risarcisca almeno parzialmente i familiari e noi chiediamo che questo fondo sia finanziato da quelle aziende che con l'uso dell'amianto hanno tenuto grandi profitti negli anni passati e che hanno lasciato l'amianto in produzione quando da tempo sapevano perfettamente quali danni avrebbe potuto provocare. E un altro obiettivo non meno importante è chiedere alla Commissione europea che in tutte le istanze internazionali si batta per l'esclusione dell'amianto in qualunque parte nel mondo e in qualunque atto di commercio internazionale. Pensiamo quindi alla chiusura della produzione di amianto dal Canada al Sudafrica per essere molto precisi. Un impegno importante che noi speriamo di poter portare avanti anche nella prossima legislatura.